Musica E' da poco che non ti vedo faraggio Ero sperto Ero sperto Oh Oh Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno 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 a tutti. Quindi, riposo! Sono un applauso, sono un applauso, sono un applauso di Alpini e con grande piacere che a nome dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità vi porgo il nostro più cordiale benvenuto a San Martinozio. E infatti, un grande onore per tutti noi avere l'opportunità di ospitare nel nostro paese la venticinquesima festa provinciale degli Alpini. Saluto e ringrazio quindi per la loro presenza qui oggi, il Presidente della sezione ANA provinciale Blenjo Adriano e tutti i componenti del Consiglio e tutti i gruppi, le associazioni e le sezioni iscritti a questa adulta. Un saluto particolare e buona festa! Grazie a te Renzo per tutto! Ed ora chiamo il nostro grande Presidente Adriano Blenjo. Non so se usare il microfono o usare solo la voce. Non mi sentite? No! Non mi trovo! Lo sapevo. Innanzitutto, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro compleanno, al nostro venticinquesimo. Noi Alpini che ricordiamo e abbiamo ricordato qui poco fa con la deposizione di questa corona di allora, tutti coloro che sono andati avanti, tutti coloro che hanno fatto la nostra storia alpina, mi preme prima di portare il saluto a tutti voi, ricordare quel ragazzo che era piumato, quel bersagliere che ieri nell'adempimento del suo dovere per portare la pace in terra lontana ha perso la vita. Dedicherei a lui e a tutti coloro che sono sul teatro di guerra un minuto di silenzio. Al nostro interno quella solidarietà rivolta verso gli altri, verso chi ne ha più bisogno, con diverse attività collaterali come quelle del Banco Alimentare, come quelle che si svolgeranno il 29 giugno sui supermercati di Astri con la raccolta di generi da destinare alle suoghe della carità. Insomma, con tutte queste attività in mezzo alla gente, siamo certi che molti di loro si avvicineranno alla nostra associazione e permetteranno quindi il prosieguo dei suoi conti. Volevo concludere facendovi, chiedendo voi tutti, ai sindaci in particolare, ma a tutti voi alpini, che la condivisione della nostra storia, del valore dei nostri padri, quella che portiamo sulle piazze e nelle scuole con gli intenti di trasmettere a chi non ha conosciuto la NAIA, a chi non ha conosciuto la guerra, accompagnando i nostri reduci nelle scuole, sia foriero di futuri successi per la nostra sezione. Ormai sapete tutti che siamo in ballo, chiediamo così, scongiurando il più possibile gli eventi spiacevoli che il 2015 ci dovrebbe vedere protagonisti ad Astri dell'88esima festa nazionale, Raduno nazionale. Io mi auguro che per quell'occasione non ci sia solo la sezione, perché la sezione, lo ripeto, ormai da parecchio, non è solo il gruppo astigiano, non è solo quel gruppo con quel camiciotto bianco e il sottoscritto. Sì, adesso c'è uno scambio di, diciamo, come si fa in queste circostanze, di ricordi e di omaggi tra la sezione, passo la parola di nuovo ad Adriano, così. Con i pochi palloncini rimasti, giustamente. bravo, quindi avviatevi verso l'uscita, con i faloni, poi di seguito. bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusi, devo guardare un po' la fila, non è colpa mia. Ciao. 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 Grazie.